Annelli, qual è la sua posizione rispetto ai progetti di fusione dei comuni? Allora, la mia posizione è la posizione che il gruppo Lega in Regione Lombardia ha sempre tenuto e cioè che noi crediamo nella unione delle funzioni dei comuni ma non crediamo assolutamente nella fusione dei comuni e non crediamo per vari motivi. Il primo è che se lo mettiamo sotto una forma di risparmio non si risparmia assolutamente nulla. Il secondo è che secondo noi si viene a perdere quella territorialità, quella cultura che ogni comune ha e che se l'è conservata negli anni e nei secoli andando a finire in un minestrone unico dove non si riesce più a capire qual è il ruolo di questi comuni. Personalmente poi ritengo anche che ci sono comuni la quale magari può essere una fusione quasi naturale perché sono comunelli da 50, 70, 80 persone e purtroppo ne abbiamo ma altri comuni che hanno una loro identità ben precisa e che si sono sviluppati nell'arco degli anni del territorio onestamente non riesco a capire quale sia lo scopo per la fusione anche perché, ritorno a ripetere, ormai di risparmi nella fusione non ce ne sono ma questo è approvato e acclarato. Invece nell'unione dei servizi quella la ritengo una scelta intelligente interessante, un'unione dei servizi quindi mettere insieme più forze che possano dare maggior risalto ad alcuni servizi parlo per esempio di quelli che sono gli uffici tecnici perché per esempio per un ufficio tecnico ben strutturato potrebbe fare quelli che sono i piani di governo del territorio che anziché darli all'esterno si possono tranquillamente farli all'interno oppure nel sociale perché nel sociale ovviamente quelli che sono le problematiche di territori contigui sono problematiche comuni. Di conseguenza questa è la posizione della Lega dopodiché non dimentichiamo anche che la posizione che la Commissione delle Autonomie ha assunto per quanto riguarda le varie richieste di fusione è che noi diamo la libertà ai cittadini ovviamente di espressione per cui per noi il referendum è la cosa sacra e vincolante però abbiamo anche espresso che qualora ci siano le fusioni di due o più comuni basta che un comune anche per un solo voto non dia la sua adesione che per noi quella fusione non si deve fare.